come da lui dichiarato in passato. Guardi, ci sono dei giornalisti che in questo momento stanno arricchendo la loro carriera con delle bufale su di noi. Tra poco quei giornalisti arricchiranno i nostri avvocati. Ogni giorno stiamo smettendo una serie di balle sul Comune di Roma e sui diretti interessati, tra cui io.